In questo tutorial vediamo dei problemi con i polinomi. Partiamo da questo esempio. Il lato di un quadrato che misura più 2 viene aumentato di 2 a più 1. Esprimi con un polinomio ridotto di quanto aumentano il perimetro e l'area. In figura ho disegnato un quadrato. Sappiamo che questo quadrato ha lato a più 2 e riporto tale misura in figura. Sappiamo poi che ogni lato viene aumentato di 2 a più 1 e in questo modo vado a determinare il lato l' di un nuovo quadrato e per determinare l' sommerò ad a più 2 2 a più 1. A conti fatti otteniamo che il nuovo quadrato ha lato 3 a più 3. Lo scopo è andare a determinare l'aumento di perimetro e area quando si passa da lato a più 2 al lato 3 a più 3. Come prima cosa vado a determinare il perimetro del quadrato che ha lato a più 2 e allora devo moltiplicare per 4 il lato e scrivo 4 che moltiplica a più 2 ed ottengo 4 a più 8. Ora vado a determinare il perimetro del quadrato che ha lato 3 a più 3 e allora moltiplico per 4 la misura del lato. A conti fatti otteniamo 12 a più 12. Vado ora a determinare la differenza di perimetro e allora a questo perimetro sottraggo questo perimetro e scrivo 12 a più 12 meno 4 a meno 8. Mi devo ricordare che devo cambiare segno a tutte e due termini. 12 a meno 4 a è pari a 8 a e poi 12 meno 8 è pari a 4. Passo ora alle aree e vado a calcolare l'area del quadrato che ha lato a più 2 e allora devo scrivere lato per lato, ossia lato alla seconda. Mi ritrovo a più 2 alla seconda. È un quadrato di binomio che svolgo alla seconda più 4 a più 4. Faccio ora la stessa cosa con il quadrato che ha lato 3 a più 3 e ne vado a calcolare l'area e scrivo 3 a più 3 alla seconda. Sviluppo questo quadrato di binomio ed ottengo 9 a alla seconda. Poi 3 per 3 è 9 per 2 è 18 e allora il doppio prodotto è 18 a più 9. Vado adesso a calcolare la differenza delle aree e allora a quest'area sottraggo quest'area. Osservo che questi tre termini li ho dovuti ricopiare cambiandoli di segno. Somma ora i termini simili, 9 a quadro meno a quadro ottengo 8 a quadro, poi abbiamo 18 a meno 4 a ed ottengo più 14 a ed infine 9 meno 4 ottengo più 5. Nel trapezio in figura la base minore è la metà del lato obbligo a D e la base maggiore supera di 2 il triplo della base minore. Dobbiamo rispondere a queste due domande. Trova l'area del trapezio in funzione di x e poi quando x è uguale a 8 dobbiamo determinare il valore dell'area A. Per risolvere questo esercizio dobbiamo calcolare l'area del trapezio e per far questo avrò bisogno della misura della base maggiore e della base minore. Sappiamo che la base minore risulta essere la metà del lato obbligo a D. Il lato obbligo a D misura x più 2 e allora la base minore sarà pari ad x più 2 fratto 2. Sappiamo poi che la base maggiore supera di 2 il triplo della base minore e allora vuol dire che devo prendere la misura della base minore, moltiplicarla per 3 e scrivo 3 che moltiplica x più 2, tutto quanto fratto 2 e poi aggiungere 2. Ora che conosco in funzione di x base maggiore, base minore e il testo mi dà già l'altezza che è pari a x, posso andare a calcolare in funzione di x l'area del trapezio e allora scriverò base maggiore, posso moltiplicare già 3 che moltiplica x più 2 e scrivo 3x più 6 tutto quanto fratto 2 più 2, poi più base minore che risulta essere x più 2 fratto 2 per l'altezza che risulta essere x e poi dobbiamo dividere tutto quanto per 2. Visto che già c'è una frazione conviene moltiplicare per un mezzo. Eseguo ora il minimo comune multiplo all'interno della tonda ed ho moltiplicato anche x per un mezzo scrivendo direttamente x mezzi. Sommo ora all'interno della tonda i termini simili ed ottengo 4x, poi ho 6 più 4 10 più 2 e scrivo 12, tutto quanto fratto 2 per x mezzi. Eseguo ora questa moltiplicazione ed abbiamo 4x alla seconda più 12x, tutto quanto fratto 4. Osservo ora che questo termine e questo termine sono divisibili per 4 e allora posso semplificare l'espressione dell'area ottenendo x alla seconda più 3x. x. Una volta che abbiamo determinato l'area voglio andare a determinare quanto vale l'area quando x è pari a 8. Questo vuol dire che in questa espressione al posto della x scriviamo 8 ed ottengo area uguale 8 alla seconda più 3 per 8 ed ottengo 64 più 24 che risulta essere pari ad 88. Le dimensioni di un parallelepipedo rettangolo misurano 2a più 1, 4a, a meno 2 con a maggiore di 2. Se ciascuna di esse viene aumentata di 2, di quanto aumentano la superficie e il volume del parallelepipedo? Esprimi il risultato con polinomi ridotti. In figura ho disegnato un parallelepipedo rettangolo che ha spigoli 2a più 1, 4a e a meno 2. Dal testo sappiamo che ogni spigolo viene aumentato di 2 e allora a queste quantità devo aggiungere 2 ed ottengo nuovi spigoli. Il primo spigolo sarà pari a 2a più 3, il secondo spigolo 4a più 2 otteniamo 4a più 2 ed infine il terzo spigolo a meno 2 più 2 otteniamo a. Dobbiamo calcolare l'aumento della superficie e del volume del parallelepipedo. Iniziamo con la superficie. Ricordiamo che la formula della superficie totale è uguale a due volte area di base più superficie laterale. Calcoliamo la superficie totale del primo parallelepipedo. l'area di base si ottiene moltiplicando 2a più 1 per 4a e allora scriverò 2 per 2a più 1 per 4a. Al doppio dell'area di base dobbiamo sommare la superficie laterale che si ottiene moltiplicando il perimetro di base e allora devo sommare 2a più 1 con 4a e moltiplicare per 2 e scrivo 2 che moltiplica 2a più 1 più 4a. In questo modo ho scritto perimetro di base per altezza e quindi moltiplico per a meno 2. Ottengo questa espressione che vado a semplificare. A conti fatti otteniamo questa superficie totale. Andiamo ora a determinare la superficie totale del parallelepipedo con gli spigoli aumentati di 2 e allora devo scrivere superficie totale 2 è uguale a due volte l'area di base. Devo moltiplicare 2a più 3 per 4a più 2 e quindi scrivo 2a più 3 per 4a più 2. Al doppio dell'area di base andiamo a sommare la superficie laterale e allora devo calcolare il perimetro di base. Moltiplicherò per 2 la somma di questi due spigoli e quindi scrivo 2a più 3 più 4a più 2 e poi moltiplico per l'altezza che risulta essere pari ad a. Semplifichiamo questa espressione. A conti fatti questa espressione rappresenta la superficie totale del nuovo parallelepipedo. Ora posso andare a calcolare l'aumento della superficie calcolando questa differenza e quindi scrivo l'aumento di superficie è uguale a superficie totale 2 meno superficie totale 1 e allora scrivo la superficie totale 2 meno la superficie totale 1. Ho ricopiato cambiando disegno. A conti fatti otteniamo 5a più 16. Andiamo ora a determinare la variazione di volume e allora devo calcolare il volume del primo parallelepipedo moltiplicando 2a più 1 per 4a per a meno 2 e poi farò lo stesso con il secondo parallelepipedo. A conti fatti questa espressione rappresenta il volume del primo parallelepipedo. Andiamo ora a determinare il volume del secondo parallelepipedo e scriverò v2 uguale e devo moltiplicare questi tre spigoli tra di loro e scrivo 2a più 3 per 4a più 2 per a. Semplifico ora questa espressione e a conti fatti questa espressione rappresenta il volume del secondo parallelepipedo. Ora ho tutti gli elementi per andare a calcolare la variazione di volume e allora al volume 2 devo sottrarre il volume 1. Escrivo il volume 2 meno il volume 1, ogni termine riscritto cambiato di segno. A conti fatti otteniamo 28 alla seconda più 14a. Trova il perimetro e l'area del rettangolo colorato. Lo scopo è andare a determinare il perimetro e l'area di questo rettangolo e allora dobbiamo andare a determinare le misure dei lati. Questo lato risulta essere congruente a questo lato e quindi posso scrivere che è pari a 2l. Ora utilizzando i dati che mi dà la figura devo andare a determinare quanto vale questo lato. Osservo che tutto questo lato è pari a 6l. Questo segmento risulta essere pari a 3a e allora se a questo segmento 6l sottraggo 3a, quello che ottengo è questo segmento e allora posso dire che questo segmento sarà pari a 6l meno 3a. Dalla figura osservo che questo segmento congruente a questo segmento misura b. Sapendo che questo pezzettino misura 6l meno 3a, allora se a tutto quanto sia b sottraiamo questa quantità, riusciamo a determinare la misura di questo segmento che sarà pari a b, ossia tutto questo segmento meno questo segmento e quindi scrivo 6l più 3a. Una volta che ho determinato le dimensioni del rettangolo posso andare a calcolare il perimetro ed area. Il perimetro si ottiene moltiplicando per 2 la somma dei lati e allora sommo questo lato con questo lato e scrivo b meno 6l più 3a più 2l, ossia quest'altro lato. 2 per b ottengo 2b, poi abbiamo meno 6l più 2l che è pari a meno 4l per 2 e scrivo meno 8l. Ed infine 2 per 3a ottengo 6a. Vado ora a determinare l'area del rettangolo e allora devo moltiplicare questa misura per questa misura e scrivo 2l per b meno 6l più 3a. Eseguo ora questa moltiplicazione ed ottengo 2bl meno 12l quadro più 6al. Vediamo quest'ultimo esempio. Il lato di un cubo misura a. Se viene aumentato di 2 qual è l'aumento della superficie totale e del volume? In figura abbiamo disegnato un cubo. Sappiamo che lo spigolo di questo cubo misura a. Dal testo sappiamo che lo spigolo viene aumentato di 2 e quindi otteniamo un nuovo cubo che ha spigolo pari ad a più 2. Lo scopo è calcolare l'aumento della superficie totale e del volume. Come prima cosa vado a determinare la superficie totale del cubo che ha spigolo a. Ricordo che la formula della superficie totale è uguale a 2 volte area di base più superficie laterale. E allora la superficie totale del cubo che ha spigolo a è uguale a 2 volte area di base e allora devo moltiplicare a alla seconda e quindi scrivo alla seconda più la superficie laterale. La superficie laterale si ottiene calcolando il perimetro di base e allora scrivo 4a per l'altezza. Essendo un cubo l'altezza è pari ad a. Semplifico ora questa espressione ed ottengo 6a alla seconda. Vado ora a determinare la superficie totale del cubo che ha spigolo a più 2 e allora scrivo superficie totale 2 uguale 2 volte area di base. Lo spigolo è pari ad a più 2 e quindi scrivo a più 2 alla seconda e in questo modo ho determinato l'area di base e poi la moltiplico per 2 più la superficie laterale. Calcolo il perimetro di base e quindi devo scrivere 4 volte per lo spigolo che è pari ad a più 2 per l'altezza che è sempre pari ad a più 2. Semplifico ora questa espressione. A conti fatti si ottiene 6 alla seconda più 22a più 24. Vado ora a calcolare l'aumento della superficie totale e quindi devo calcolare la differenza tra la superficie totale 2 meno la superficie totale 1. A conti fatti si ottiene 22a più 24. Vado ora a calcolare l'aumento del volume. Come prima cosa determino il volume del cubo iniziale che ha spigolo a e quindi il volume sarà pari ad a alla terza. Vado poi a calcolare il volume del cubo che ha spigolo a più 2 e scrivo a più 2 tutto quanto alla terza. Vado ora a sviluppare questo cubo di binomio e ottengo il cubo del primo più il triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo più il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo più il secondo al cubo ed ottengo 8. Semplifico questa espressione ed ottengo a alla terza più 6a alla seconda più 2 alla seconda e pari a 4 per 3 ed ottengo 12a più 8. Ora vado a calcolare la differenza di volume e allora al volume 2 sottraggo il volume 1. A conti fatti si ottiene 6 alla seconda più 12a più 8. E con questo termino il tutorial sui problemi con i polinomi.